Io penso che noi abbiamo comunque i mezzi per vedere da altri punti di vista lo stesso evento, possiamo ad esempio leggere giornali, guardare telegiornali di altri paesi, vedere com'è anche la visione da altri posti e quindi questa visione più ampia su quello che accade può aiutarci a fare una scelta più consapevole e meno dettata dalla paura, da quello che ci dicono altri.